Siamo in compagnia di Francesco Maini, numero uno del Cisterna, al termine della sfida contro la città di Sonnino. Allora Francesco, è arrivata la vittoria, è tornata la vittoria, tornate a sorridere e dopo la sconfitta e il pareggio delle ultime due partite, com'è andata questa gara? Sofferta nel secondo tempo. Abbiamo sofferto tanto, però siamo stati in gruppo, non abbiamo mai mollato e questo ci ha portato il problema. Senti, una prestazione da otto in pagella, la tua ha neutralizzato il rigore, nel secondo tempo hai fatto un paio di parate a dir poco spettacolari. Insomma, com'è andata? Soprattutto ti stai ambientando, come ti trovi tra i pali di una squadra, di una piazza molto calda? Mi trovo molto bene, mi sono ambientato fin da subito, perché comunque la maggior parte dei giocheri della squadra li conoscevo e adesso cerchiamo di vincere il campionato. Hai detto bene, cerchiamo di vincere il campionato, quindi insomma l'obiettivo sembra abbastanza dichiarato. C'è stato un piccolo stop, un piccolo arresto, ora come si continua su questa strada? Bisogna continuare a allenare tutta la settimana bene su ogni pallone e poi i risultati vengono da subito. Senti, ultima domanda poi ti lascio. A fine partita vi siete riuniti dentro il cerchio del centrocampo, è stato un bel momento, visto da fuori. Ti posso chiedere cosa vi siete detti? Adesso siamo tornati alla vittoria, abbiamo continuato a sorridere e dobbiamo continuare a vincere e dobbiamo previstare l'obiettivo che ci siamo dati. Ti ringrazio e in bocca al lupo. Grazie mille.